A voi tutti ben ritrovati da Giuseppe Davidis, confermato il cambio del tempo per qualche giorno almeno da lunedì in poi con aria via via sempre più fresca in arrivo proprio nella giornata di lunedì in serata per la verità non al mattino e poi ci sarà anche spazio per della instabilità, dei rovesci di pioggia, tempo anche perturbato per qualche giorno però bisognerà seguire la traiettoria di questa goccia fredda e quindi valutare giorno dopo giorno gli effetti sul nostro territorio. Come detto lunedì tempo in peggioramento, intanto nella giornata di domenica pochi cambiamenti con cielo prevalentemente sereno al più sorcato da qualche nube medio alta, nel corso del pomeriggio ancora qualche nube medio alta, tanto sole e qualche modesto addensamento nuvoloso possibile sul basso Salento, zone interne verso il capo di Leuca, in serata ancora cielo sereno poco nuvoloso per nubi medio alte, quindi questo è lo scenario previsto per la giornata di domenica. Vediamo il vento, il vento si attenuerà, inizialmente ancora tra il debole e il moderato da nord, poi si attenuerà nel corso della giornata, quindi dal pomeriggio in poi vento debole su tutto il territorio, al mattino poco mosso l'Adriatico, nel pomeriggio invece mare quasi calmo dappertutto. Cari amici, mi fermo qui, non ho altro da aggiungere, buon proseguimento di giornata e soprattutto buona domenica. Arrivederci!